Arriva dall'Istat la fotografia dei comportamenti economici delle famiglie italiane. Nel 2010 si è speso di più e risparmiato di meno, il reddito disponibile è aumentato mentre è calato ancora il potere d'acquisto che durante lo scorso anno si è contratto dello 0,6% dopo un calo di oltre il 3% nel 2009. Ma gli ultimi mesi del 2010 hanno segnato una timida ripresa. Per la CGL e le associazioni dei consumatori questi dati non fanno altro che confermare la resistenza della crisi. Sempre nell'ultimo trimestre del 2010 è aumentato anche il reddito disponibile delle famiglie per il consumo e il risparmio, seguendo la tendenza generale di tutto l'anno. Ma con i loro soldi gli italiani hanno speso piuttosto che metterli al riparo. Il tasso di investimento, ovvero il rapporto tra il reddito disponibile e la spesa per le abitazioni e gli investimenti delle piccole imprese, è aumentato leggermente rispetto al 2009. Buone notizie sul fronte delle imprese, sugli investimenti e i profitti.